Mi chiamo Riccardo Tarbartolo, da sempre scrivo articoli legati all'anautica e all'antico oriato navale. Prima che mi dimentichi vorrei ringraziare Fogli, Fiori e Fantasia per i fiori. Adesso parliamo di questo elmo da palombaro, manifattura italiana degli anni 20, lo trovate presso il negozio antico di San Giovanni sul Muro a Milano, la mia amica Daniela Giorgi. Questo elmo consiste in una sfera di bronzo e rame cava munita di alcune aperture, un'apertura inferiore per far entrare la testa del palombaro a cui è collegato lo scafandro, un'apertura frontale chiuso da un oblo ammovibile a tenuta stagna e infine un doppio oblo laterale per permettere la visuale anche di lato e una valvola per lo scarico di aria in eccesso, questa qui, gli elmi da palombaro hanno un prezzo che può variare da 5.000 a 15.000 euro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.